Stiamo ricariando un bosco, è un lavoro molto duro, c'è veramente bisogno di persone che ci possano in qualche modo dare una mano nel preparare il terreno, nel scavare delle buche per poi mettere a novembre delle piante. Uno degli aspetti fondamentali di questo lavoro è quello di usare un terribine inglese, è quello di ricreare uno stepping stone, che è un punto praticamente dove in futuro potrà essere punto di appoggio per animali in transito. In novembre dovremmo mettere a dimora circa 120 piante, stiamo cercando persone, volontari, che possono aiutarci in questo lavoro. Il lavoro è molto bello, molto interessante e gratificante. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.